Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono This121 e con me c'è BZH05 E facciamo carino il microfono Ragazzi Praticamente Oltre che oggi è un giorno specialissimo Perché è finita la scuola Finalmente Dopo l'estate ci sarà un altro anno Mi hanno imbiancato di farina Per me Per me ci sono gli esami Ma chi se ne è Si gli esami di superiore Per Youtube siamo maggiorenni Si lo so ma Perché vado in Ho finito la terza media Terza e quinta superiore Quinta superiore La madonna no al massimo per Youtube Sono in terza superiore Lo so va bene Praticamente oggi siamo su Geometry Dash E me lo sono comprato per computer Quindi ragazzi possiamo fare molte più cose Ah non spaventatevi Ho ancora il mio account E Beh Praticamente Cos'è questa catamina Ah no in realtà ve l'avevo già detto Nella volta in cui avevo completato i demon C'è un uno C'è un uno Si se si caricassi sarebbe anche meglio Piccolissimo uno Piccolissimo Se si caricassi sarebbe anche meglio Comunque E comunque ragazzi Eh oggi Con Bizzera Ci ho detto una catamina Faremo cose a caso Ok Bello Cioè tipo I daily level Oppure Faremo questa cosa a caso C'è un gran toilet Che ha una musica più bella del mondo Ve lo assicuro Gente che è morta Perché l'ha ascoltata No devi prendere No sta scherzando No no vabbè vabbè No no Voglio di vedere il demon No 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 Aspettate 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 Questo livello è molto bello Eh Eh Sono prontata a farmi le orecchie Sai che Sai che un remix Non ha effetto Vero? Lo so Proprio come Eh Come si chiamava Azione Su Ghastly Non ha effetto Appunto Non ha effetto È un remix È un remix Ecco Tac tac Però è inquietante Devo dirlo Sì Ah È più inquietante Di quella normale Bello Bello Perché si sentono anche Delle voci Ma non c'era Non c'era più Quel Bom 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 Cosa? Boh non lo so Perché c'era anche Un bom 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 Non mi ricordo Per me Che me l'aveva Canticchiata Un mio amico Alla fine L'avevo scoperta Mentre stavo guardando Un video Mim Ah non è quella vera Vabbè Era ovvio Che non era quella vera Io Io cretino a credere Che era quella vera Eh appunto Io sta cretino Al fine è anche bella Se ci pensi Si pensi No ma dopo C'è un drop Della madonna Lo sai Se non muoio Ovviamente Che poi alla fine Senti i drop Io l'ho ascoltata Aspè Senti Senti Ah no Niente C'era il fading finale Che poi Quella vera È un po' più acuta Cioè Più acuta di questa Se ci pensi Non si può Però un po' più acuta Quella vera Alza un attimo il volume Ah ci tiro delle catramine Di tosse Ultimamente Ok Cioè catramina Diventerà il nuovo meme Del canale Quindi ragazzi Adesso Proveremo un pochino A vedere I livelli Featured Tipo Questo livello È bellissimo Match 1 Hai fatto 50% Hai una stella L'hai capita questa Bazzuta Hai fatto il 50% Hai una stella Bellissimo Oltretutto Il mio nuovo ragno L'avete notato Che lo usa anche Serponge Se Se Lo usa anche Serponge Questo spider Ah Morto Beh Ragazzi Vi faccio invece Vedere un altro Livello Ammetti Lo lo usi solamente Perché lo usa Serponge No Lo uso perché è bello E perché non ho altri spider Aspetta Senti qua 1 T10 Off 9 9 9 9 Sì Non ha senso È È Un È Un Babbiccata Amina Ecco Che catramina Appunto 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 Ragazzi Adesso Bello Verano Ancora caduto Il microfono Questo livello È bellissimo C'è The Furious Questa musica Non so se Per qualche musica Mi daranno il copyright Comunque di sicuro 100% Comunque Chi se ne 100% 3 stelle Ricordatelo Ok Sono più orrendo Che mai No È una battuta Stema Clash of Clans Ultimamente Sta tornando di noda Sai che questa è la nuova Lavandonia Seriamente No dai Scherzo Era ovvio Che non era la nuova Associativa Si però Rock Associativa Pocotino Una catramina In sintonia col drop Proprio il più bello Al mondo Solo Faccio pure La tosse In sintonia col drop Ma al fine Il voltage L'abbiamo finito Si Io facciamo vedere A questi Ok Ma in un altro video Ma che Batruccolo Che sei Batruccolo perché Perché Se no Non ti monetizzano Il video Eh appunto Tu non lo fai perché Sei un money grabber Sei un money grabber Eh se no Non guadagno soldi Ammetti Non sei sempre stato Un money grabber Si dai Eh si Faccio video Solo perché Così ho i soldi Compro la bella vita Eh ma do 10 euro ogni Due mesi Vabbè comunque Ragazzi Eh Eh Anzi Non so se Gli ho facciamo vedere Ma Anzi Si dai Gli ho facciamo vedere Ma in un altro video Quindi Il video che uscirà Dopo questo Sarà Ti dà un copino Che si sente Pus dal film Il video Che uscirà Dopo questo Saved Tac Ah No 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 Create Ok Vai giù Stanno guardando Tutte Vai giù Ok Oddio Cristo santo No no Vai ancora giù Ah BB voltage Qui Viù Tac Ok Ragazzi Praticamente Praticamente Questa è una collab Aspettate Lo descrivo Questa è una collab Che abbiamo fatto insieme Sul tablet Ma Cioè Non è che sia venuta Tanto Boli Comunque Si Potremmo fare Un'altra Un'altra collab Si Dopo facciamo BB voltage 2 Ok Ok D'accordo Ma fuori dal video Se no Questo dura 100 anni Questa parte modestamente L'ho fatta io Cioè Questa invece Ha fatta lui Ma l'ho decorata io L'ho fatto Parti io Poi lui Ha fatto parti Che Cioè Le parti mie Sono da Ecco Questa è la sua parte Easy Demon Perché Easy Demon Vero Non so come ho fatto A finirlo Inclopitabile Inclopitabile Era Così Ok 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 Davo Ecco I blocchi invisibili Non ce li voleva mettere Sinceramente Però Li ho messi E questa è la mia parte E poi modestamente La prossima parte L'ho decorata io Nel senso L'ho creata lui Ma l'ho decorata io Notare tutte le Secret way False Tarocche Che ci sono Tarocche come Questa è la mia parte Questa invece è la sua E poi Eh ragazzi qua c'è la secret way Voglio vedere la secret way Ok Siamo al 90% Alla fine l'abbiamo messa Perché L'ultima parte è un po' C'hanno Praticamente ragazzi Se voi andate qua Verrete esponati Qua Or not Si siamo i trolloni Finali Praticamente Ma come mai l'hai spoilerato Fraio Come mai l'hai spoilerato Non me ne frega un cazzo Ok Allora Qua Era così Ok Save and play Telefono Ah no Giusto che Devo metterlo Meno Perché se no Scusate ragazzi Ma Ok Così dovrebbe andare Così ci scontra E scontra Ecco Ho indovinato Sono troppo 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 Ok Ti ho cinaccato la mina Ah beh Comunque ragazzi Guardate Voglio vedere Sei contento Adesso Ecco Poi Il coin L'ha messo lui Il coin L'ho messo io Qua Volevamo Continuare Volevamo Continuarlo Volevi Ma Non Non ce l'abbiamo Fatta Che fa Provare a fare Il Completarlo Così lo mettiamo Ufficialmente Non lo so Comunque ragazzi Ve l'ho già fatto vedere Deadlock Deadlocked easy Si che l'hai già fatto vedere Ok Allora Ehm Psst E' una bugia Però non ditelo a nessuno Ok ti ho sentito Lo farò vedere Ah Ok Ok Bello Bene Ragazzi Questo è Deadlocked easy E' praticamente Una versione più easy Di Deadlocked Che l'ho fatta Recentemente Ah Oltretutto Ragazzi Se vi state già Chiedendo Se Come mai I nostri video Durano così tanto Perché vogliamo fare Il naturale Esatto E oltretutto Perché siamo E No ragazzi E oltretutto E questa non è per niente Una scusa Perché noi siamo pigri E non vogliamo editare Questa è proprio La pura verità Vogliamo fare dei video Il naturale Esatto E intanto Lo sono morto Il naturale Il naturale Ma si Il naturale Molto anche Molto 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 Ma sono dei video Il naturale Sono dei video Vegan Sono dei video Vegan Ecco perché sono Il naturale Perché sono Vegan I video Comunque ragazzi Ehm Per il resto Quest'estate E Editerò meglio I video Ma Adesso Oltre che Ho gli esami Quindi devo anche studiare Ma oggi non è vero Però Sono troppo pigro Per evitare Lo stesso Però Gli esami Non ce li ho Perché sono in Quarta superiore Ok Auto Perché io non riuscivo Proprio a farli A sta parte Sì Mettiamo qualche auto E te lo danno Harder Te lo danno Harder Guarda Questo è Harder Questo è Harder Harder sta roba Ah no Ma cosa è questo Jetpack Joyride Che metti Così Dei missili E' difficilissima Questa parte Deve avere Porca Beh comunque Ragazzi Per il resto Questa è una trollata Ci muoiono tutti Comunque Spero che questo Non questo video Questo livello Vi sia piaciuto Perché adesso Continuiamo E guardiamo E guardiamo Questo livello Aspettate un attimo Ok niente Volevo soltanto Controllare La durata del video Che così lo possiamo Continuare ancora Ragazzi Tanto questi Sono contenuti Random Tanto per riempire Il canale Perché io sono Monegrabber Del cazzo E' vero Sì Facciamo Monegrabber Abbiamo 2250 iscritti Che Monegrabber Facciamo Con 2250 iscritti Che Che 2199 Sono spagnoli Che non ci capiscono Un Bip Di 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 Italiano Cioè in Italia Quanti iscritti abbiamo Aspetta 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 Abbiamo Unita Detto Qualche parolacce Nel video Ehm No A me non sembra Di niente Io non le ho dette Ok Poi se mi beccano La polizia Mi può Ok Ok Youtube Non Non ci denunci Per favore Ehm Perché Non ci denunciare Per favore Perché noi Siamo Noi siamo poveri Adulti Noi siamo povere persone Che fan video Su Youtube Perché Sì E perché Questo si chiama Notus Notus Che livello È noto Notus Vuoi dire Notche in modo Etico Ma non ce l'hai fatta Notus Sonvi che Epico Notus Epico come Delle Adesso faccio un cheat Agli scorsi video Guardate Epico come delle Ciabattine rosa Ok Allora Mag come delle Ciabattine rosa Vediamo Espectro Facile Hard 5 Aspettate Perché Si sta Ogni tanto Succede Che Ebo Non so Lag No no Semplicemente Quando c'è Troppa roba Da Quando c'è Troppa roba Da Aspettate LDM Mi serve L'LDM Perché Quando c'è Troppa Oh L'LDM Mi serve L'LDM Sembra Una droga Eh appunto Sembra Una droga Sì lo so Speriamo che Droga Non la contino Come parolaccia No no Non la contano Come parolaccia Non la contano Come parolaccia Perché No 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 Eh scusa Eh Youtube Almeno un pochino Di robe Possiamo ancora Dirlo Possiamo ancora Dirlo Non è che Ci sta privando Non è che Di tutti i diritti Primari No forse Proprio quello Che sta facendo Comunque Boh Non voglio Venire denunciato Quindi niente E Proviamo ancora Questo livello Poi concludiamo Il video È stato un video Molto calmo M Level by Chiamarlo Songshipper Guarda che lo sapevamo Non ci distraire Con ste cose Ma è proprio Quello il suo scopo Ho imparato Solo a scuola Distraire A scuola L'ho imparato Yeah Sì guarda che Miglior scuola del mondo Sì distraire Abbiamo imparato Il verbo Il verbo Bevere Forse muoio ancora una volta Mi ammazzo Proprio nella vita reale Suicidio Di distruente One in diretta No scherzo Sono un metodo Per farti il suicidio Ancora più veloci Di ammazzarti Lavender Town Dove sei? Serve qualcuno Da suicidare No vabbè Fate gli scherzi Non l'ho capito Sai che la Lavender Town Ammazza Dovrei essere morto No La Lavender Town Ammazza E tu avevi detto Che se morivi qua Muorivi anche adesso La Lavender Town Però ammazza Quindi ti faccio dare Un aiutino Da lei Oppure se è ottono Mazzamati da solo Ecco Madonna ragazzi Che figo Che è sto livello Sì ma se muoio Ragazzi No basta No basta Ok Vai a vedere il tuo primo Intanto Eh cosa Tu sei qua Eh c'è caduto di nuovo Mi hai completato Uno 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 demon Uno demon Oltretutto che Scrivo tutto in inglese Aspetta Cosa scrivi in inglese? Cosa? Ah no Non è per scrivere Eh appunto Se non ne scrivevo uno Io No Al massimo puoi mandarmi Ai miei amici No perché l'ho detto Non fare quello che penso Ok questo ci sta Dei poveri Ok Il migliore al mondo Dei poveri Ok questa ci stava Ragazzi con questa Un saluto da This one to one E E Bzh05 Il migliore al mondo Dei Al mondo Dei poveri E con questo Ciao a tutti No A scuola Quel posto dove tu non vai mai Ti hanno insegnato a dire Buongiorno professore Ma non me Ma non me ne frega un b Perché se no ci restringono il video Esatto Restrizionano il video Ok con questo Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti